ciao bimbi oggi impariamo insieme i nomi della frutta fragola fragola anguria anguria ciliegia ciliegia avocado avocado pitaia pitaia mela mela pera pera limone limone ananas ananas banana banana melograno 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 albicocca albicocca mango mango arancia arancia lame 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 prugna pesca 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 lampone 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 mirtillo 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 mora mora noce di cocco noce di cocco noce di cocco melone 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 papaya mirtilli mirtilli rossi 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 anguria ciliegia avocado pitaia mela pera limone ananas banana melograno uva albicocca mango arancia lame prugna pesca lampone mirtillo mora noce di cocco m m kiwi m melone m papaya mirtilli rossi pompe pompe elmo mpe 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 mpe